Musica Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze Io sono Cicomalo E ben ritornati in questo nuovissimo video Oggi rigiocheremo a LokiCraft Questo qui è il secondo episodio Della terza stagione di LokiCraft Ovviamente io ho LokiCraft 5 Però LokiCraft 1 Quello normale L'originale, il primo Non so che fine ha fatto E quindi mi sono installato LokiCraft 5 E' praticamente bello Sì, è comunque bello Mettiamo subito il video E chi cazzo è qua? Basta con ste pubblicità Allora, musica, video, giochi E altri media Non voglio installare Voglio disinstalla C'è no Non ce l'ho ancora Voglio chiudere La pubblicità Come cavolo si fa? Chiude E? Ah, così Ok, ho chiuso Vediamo Adesso carichiamo Gioca Gioca Non c'è il nome Questo era il mio mondo No, non voglio pacchetti risorse Non voglio procedi Costruzione del terreno Generazione del mondo Stava piovendo Caricamento Si parte Ancora piove Ecco la costruzione Ok, era finita la costruzione Però ora Dobbiamo Tipo Non mi sembra Tanto perfetta Aspetiamo No, bisogna Allungarla Non è perfetta Secondo me No, no E bisogna Allungarla Ok, mi sentite Si Si va così? No Ecco Ci metteremo Tanto tempo Ho capito Che bisogna Allungarla Però Gianfrancesco Dai un po' di tempo A farci pomalo Ok, tre blocchi Aspettiamo Che Jonathan Costruisce La casa Per poi Svuotarla Da dentro Mettendogli La porta E Poi arredarla Ma La farà Nel prossimo video O live Ciao Adesso vediamo Che schifo Un ragno No Si arrabbica Sulla mia casa No raga Io ho la racnofobia Ho paura dei ranni Cioè guarda Cioè Come farà A non aver paura Di un ragno Che schifo Tutto con le zampe Tutto peloso Tutto nero Mi disse No 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 Ma che cazzo Fai Ma perché Ma perché Dai Beh dai Non me ne frega E non me ne frega di questo gioco Le pubblicità non devono esistere mai Carica Prendi il gioco Allora ho alzato E' abbastanza alto Quindi aspettate Allunghiamo qua Fino a qua Poi basta La costruzione è pronta Sembra basso Però in realtà volo In realtà è alto Se raga non potete manco capire Mentre io parlo da down Perché non so come Che cosa devo fare adesso Prima costruisco Vabbè metterò Una musichetta Per passatempo Vabbè metterò Grazie a tutti. 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 Ok... Ma... ... Una scala... Allora... Un... E... ... ... ... You... ... ... ... ...... ... ... ...... 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 ... ...... ... ... ...... ......... Ragazzi Ah 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 Ok si Quanto serve Oh Così vedo Così vedo Vedo la buio ragazzi Te arrivai tu Creeper Sì 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 Ok 27 minuti di video sta durando e che cazzo Vediamo lo strogo notturno che mi sta venendo Mi sta venendo rega mi sta venendo lo strogo notturno Quando mi è venuto lo strogo notturno divento parzialmente drogato Parzialmente rega Musica video giochi Giochi Sì 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 I don't know where I'm going, going I got these butterflies hanging in my mind I'm far from life, my remnants fainting in my life I'm holding tight before I die Let me find real lost in my trap in dreams I'm paralyzed, the mean and austen side by side Devil and God Got a lot of friends but still so lonely I don't know about all these dreams, fall through me Can't run away from you inside me Some better days but I still feel so lonely I don't know how to burn out, I don't believe I'm alone now I don't know how many memories I can't run away, I'm no good now I'm using more everything, from you I will never be free Can't stop me from everything, so I don't know where to go now God caught up in my head, thought way too far ahead I don't know where I'm going, going God caught up in my head, thought way too far ahead I don't know where I'm going, going I don't know where I'm going, going I don't know where I'm going, going no ok 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 tosei brutto ok Grazie a tutti. 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 No, il video finisce qui. Abbiamo svuotato la casa, ecco qui. Ora leviamo le torce. No, è buio così. Va bene, mettiamo le torce in tutta la casa, dai. Ok, 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 qua. Ok, ok, qua. No, però, no, così è troppo bello, ragazzi. Cioè, guardate quanto è bello. Spera, mi metto in terza persona, come si fa a mettere in terza persona? Vabbè, vabbè, il video finisce qui.